C'è un veterinario, va dai dottori, che dice, dottore io ho questo problema, sicché il dottore gli dice, guardi allora, per essere più sicuri dovrebbe fare l'esame del sangue, va bene, poi un attack e anche delle radiografie, e il veterinario li fa. Certo che voi siete un po' complicati, io, quando viene un mio cliente con l'animale che è malato, io subito vedo il ketchup e gli do subito le medicine, non come lei mi fa fare tutti questi esami, ma se vuole gli do delle medicine anche io, però se non funzionano poi bisogna ammazzarla.